Il primo anno che collaboro con Top Training, con Simone e il suo staff, sono felice di averlo fatto perché penso sia un'esperienza che tutti i calciatori dovrebbero fare perché è importante arrivare preparati al ritiro con il proprio club e comunque fare degli esercizi specifici con un preparatore professionista come Simone penso sia importante. Abbiamo conciliato i lavori anche con giochi e con altre attività quindi il lavoro non è pesato e sono convinto che il ritiro lo affronterò in modo migliore.